dunque l'idea di questa mostra è nata come spesso succede le cose migliori nascono quasi casualmente è nata da un colloquio che abbiamo avuto in pieno agosto mentre tutti gli italiani erano giustamente in vacanza rilassati abbronzati i visionari erano al lavoro e quindi abbiamo da un colloquio con il professore manuele e manuele manuele presidente della fondazione terzo pilastro abbiamo partendo da un articolo di giornale abbiamo affrontato la tematica per molti versi ancora oscura del metaverso e il suo entusiasmo per tutto ciò che è futuro tutto ciò che guarda al futuro ha portato la proposta da parte sua di organizzare una grande mossa sul metaverso partendo però dalle radici storiche quindi partendo da un cortocircuito con opere storiche che abbiamo pensato di far partire sostanzialmente dal barocco quindi l'idea degli artisti come creatori di mondi e a quel punto abbiamo pensato io ho pensato il professore manuele anche ha pensato che era necessario lavorare in una specie di team con una persona esperta di arte digitale e di ultime novità tecnologiche e quindi io ho contattato serena tabacchi che il direttrice del museo di arte digitale di londra e dal colloquio con lei è nato questo progetto straordinario che è cresciuto nel tempo ma si è poi concretizzato in pochissimi mesi diventando appunto un ipotesi di coesistenza fra fisico e digitale ipotesi metaverso è sicuramente una delle prime mostre internazionali in cui il fisico il materiale lo storico l'idea della storia e della memoria è molto forte convive e coesiste con il digitale l'immersivo l'iper tecnologico per dimostrare che anche le ultime novità tecnologiche hanno delle radici storiche tra queste ad esempio sicuramente piranesi piranesi con le carcere di invenzioni a cui al cui esemplare abbiamo accostato un film in animazione 3d che ti porta dentro una delle carcere di invenzioni piranesi ha di fatto inventato il sublime preromantico questi spazi immensi infiniti che sovrastano l'uomo oggi con il sublime tecnologico ad esempio di un ray fic anadol arriviamo appunto a una tecnologia che fa sembrare all'essere umano di essere infinitamente piccolo come avveniva in altri modi attraverso piranesi iscriviti al nostro canale